Ciao ragazze, ciao a tutti! Allora, in questo video vi vorrei fare il tutorial di questa simil gerbera. Non è una gerbera perché comunque non ho seguito lo schema che è a pagamento, anzi vi lascio il link nel box informazioni. Se volete lo schema della gerbera vera e propria, mi pare che sia sul sito di Pairs4U. Quindi vi lascio il link se volete acquistarlo, non costa nemmeno tantissimo, mi pare 8 euro. Io invece ho voluto fare la gerbera così, a naso. Ho fatto varie prove che comunque non mi sono uscite tanto bene, fino ad arrivare a questo risultato, che era il più carino tra tutti quanti, quindi ho deciso comunque di farvi un tutorial. Perché il procedimento è tutto... cioè, l'ho inventato io. Vi volevo mostrare anche qualche altra cosina che ho fatto. Questo ve l'ho mostrato nell'altro video, è stato il primo esperimento che non è riuscito bene, ma comunque me lo tengo lo stesso. Perché, insomma, non ho avuto più posto per inserire le daghe un pochino più grandi. Quindi è uscito una specie di margheritina o di metà gerbera. Poi ho rifatto questo qui, questo altro, perché non mi stava piacendo. Avevo messo le drops e tutte qui, ma non mi stava piacendo come erano uscite, quindi ne ho messe metà. Poi mi stavano piacendo troppo queste daghe sulla parte esterna, e quindi ho deciso di mettere meno daghe piccoline. Però, non lo so, penso che lo scucirò lo stesso, perché non mi piace tantissimo. Poi, un'altra lavorazione è stata questa. E, ripeto, tutte queste lavorazioni che state vedendo sono state fatte tutte con una tecnica diversa, perché ho iniziato da questo, poi sono passata da questo, per poi arrivare, insomma, al tutorial che vi farò vedere oggi. Anche questo è stato fatto in una maniera un pochino diversa. Infatti qua le daghe si muovono un pochino sulla parte retro. Allora, il caboccione è stato incastonato, e poi ho voluto fare una specie di, non lo so, decorazione, una specie di cuore. Mi è venuta questa punta di freccia, e quindi l'ho lasciato così, non lo so che mi è passato per la mente. Poi ho messo le drops, però ne ho messe sempre metà, quindi ho alternato drops con rocaille. E poi ho messo queste daghe piccoline, che sono colore matite, e queste più grandi, che sono jet, quindi nere. L'incastonatura è stata fatta con delle delica sul celeste. Quindi il risultato è questo, non è malazzo, mi piace molto, è carino. Poi invece ho fatto quest'altro, che più o meno è simile al tutorial che vi farò oggi, che è questo, ma non è uguale. Innanzitutto, qui non lo so, mi venivano le daghe un pochino allargate da questa parte, non sono riuscita a farle combaciare tutte perfettamente, e quindi alla fine qui ci ho messo il gancetto. Si sta scaricando la batteria. Poi ho fatto i piccoli sul davanti, perché non avevo le drops di questo colore, e poi ho messo queste daghe un pochino più grandi, diversamente dal... cioè le ho messe al di sopra di queste, insomma ho fatto un altro tipo di lavorazione, un pochino diversa, però mi piace lo stesso. Dopo di questa è stata la volta del tutorial che vi faccio vedere, è molto carina, mi piacciono anche i colori che ho scelto, perché mi piacciono molto queste Picasso, queste daghe Picasso. Spero che il tutorial vi sia utile, spero di fare anche degli altri fiorellini, ho in mente di fare una margheritina, comunque poi vediamo. Vi lascio il tutorial e ci vediamo al prossimo video. Un bacio a tutti, ciao ciao! Allora comincio con l'incastonare il mio rivoli. Ho preso un rivoli da 14 mm, poi sto utilizzando delle delica, vi dico il codice, di B0144, e sono delle Silver Lined Dark Topaz, poi utilizzo delle Rokai 15.0 TH9074-9, e sono delle Galvanized Starlight. Sul filo ho inserito, sul lago scusate, ho inserito il mio filo, ho preso un filo di nylon da 18 mm, e quindi inizio con l'incastonatura del mio rivoli. metto sull'ago 36 delica. Inserite le mie perline sul filo, rientro nel senso opposto, con l'ago in tutte le perline. Quindi prendo e rientro, pian piano in tutte le perline. Ok, sono rientrata in tutte le delica. A questo punto, sulla parte finale, faccio un piccolo nodino. Quindi tiro bene bene il filo e faccio un nodo. Non si dovrebbero fare nodi al peyote, perché non andrebbero fatti con la tessitura, eccetera. Però a me scoccia puoi avere questo filo mentre lavoro, quindi farò un nodo. Ok, a questo punto rientro in qualche perlina, giusto per fissare il mio nodino, ed inizio a lavorare a peyote circolare. Quindi inserisco una delica nel filo, salto una perlina, e vado nella perlina successiva con l'ago. In questo modo. Inserisco un'altra delica sul filo, salto una perlina e vado nella perlina successiva. In questo modo. Ripeto questo passaggio, così ve lo faccio vedere. Prendo una delica, la metto sull'ago, salto una perlina e vado nella perlina successiva. In questo modo. Procedo così per tutto il giro. A questo punto devo inserire l'ultima delica, prendo la delica, la inserisco sul filo, salto una delica, vado nella delica successiva, in questo modo. Mi ritrovo così. Inserisco la delica e poi passo il filo nella prima delica del giro successivo. In questo modo. A questo punto procedo sempre a peyote circolare per un altro giro. Quindi inserisco una delica sul filo e vado nella delica successiva. A questo punto non ho bisogno di saltare delica perché mi ritrovo già il giro bello e fatto. Inserisco una delica sul filo e passo l'ago nella delica successiva. Proseguo così per tutta la fine del giro. A questo punto devo inserire l'ultima delica di questo giro. Prendo la delica, la metto sul filo e passo nella rocaglia successiva, in questo modo. A questo punto prendo l'ago e lo passo nella prima delica del giro successivo, in questo modo. ho terminato i giri con le mie delica. Stringo bene bene il lavoro e comincio a mettere le rocaglia 15-0 procedendo sempre nello stesso modo. A peyote circolare, quindi prendo una rocaglia 15-0, la inserisco sul filo e passo nella delica successiva. In questo modo. Prendo un altro rocaglia 15-0, la metto sul filo e la faccio passare nella delica successiva. Così. Il mio lavoro comincerà a stringersi, quindi io per comodità inizierò a girare il lavoro in questo modo, in modo da inserire tutte le mie rocaglia 15-0. Devo inserire l'ultima rocaglia, prendo la rocaglia e la metto sul filo, passo nella delica successiva, in questo modo. Poi prendo l'ago e lo faccio passare nella rocaglia che abbiamo inserito per prima, in questo giro. Così. A questo punto il nostro primo giro di rocaglia è stato terminato, dobbiamo farne un altro, sempre proseguendo nello stesso modo, al peyote circolare, quindi prendo una rocaglia, la metto sul filo e passo nella rocaglia successiva. In questo modo. Proseguo, prendo una rocaglia, la metto sul filo e inserisco l'ago nella rocaglia successiva. Proseguo così fino alla fine del giro. A questo punto devo inserire l'ultima rocaglia, metto la rocaglia sul lago e inserisco nella rocaglia successiva, in questo modo. A questo punto il nostro giro è terminato, quindi il nostro cabochon, il nostro rivoli, può essere inserito tranquillamente. inseriamo il nostro rivoli e procediamo alla decorazione dal lato opposto. Facciamo passare il filo nelle varie delica, se il filo esce di qua, facciamo passare il filo nelle varie delica in modo da ritrovarci dalla parte opposta. eccoci qui. Ci ritroviamo ad uscire da una delica dell'ultimo giro. A questo punto procediamo sempre al peyote circolare inserendo le nostre rocaglia 15-0. Quindi prendo la rocaglia e la metto sul filo e vado nella delica successiva, in questo modo. prendo una rocaglia e la metto sul filo e vado nella delica successiva. Procedo così per tutta la fine del giro. Devo inserire l'ultima rocaglia, metto la rocaglia sul filo e vado nella delica successiva, in questo modo. A questo punto passo nella rocaglia nella prima rocaglia dell'altro giro. E così che ho terminato il primo giro di rocaglia. Adesso devo proseguire con il secondo giro. Inserisco una rocaglia sul filo e vado inserisco l'ago nella rocaglia successiva. Inserisco un altro rocaglia sul filo e vado nella rocaglia successiva. Proseguo così fino alla fine del giro. A questo punto ho terminato il mio giro e ho terminato la mia incastonatura che è questa qui. Devo procedere alla decorazione. Allora, prendo il filo che esce da questa rocaglia e lo inserisco non nel primo giro di delica bensì nel secondo a partire da dietro. Quindi ho saltato un giro di delica e vado ad inserire la rocaglia scusate l'ago nella delica del secondo giro di incastonatura a partire da dietro in questo modo. Quindi io esco col filo da questa delica ho saltato questo giro e l'ho inserita qui. A questo punto devo creare un giro di delica sopraelevato quindi metto sull'ago una delica ed inserisco l'ago nella delica successiva da cui sta uscendo il filo in questo modo. La mia delica è sopraelevata. inserisco un'altra delica sul filo vado nella delica successiva da dove sta uscendo il filo cioè questa e tiro bene bene. La mia seconda delica vedete è sopraelevata. Procedo così per tutta la fine del giro. Ok ho terminato il mio giro quindi vedete che tutte le delica sono sopraelevate quelle che ho inserito adesso. Esco con l'ago da questa delica di base da questa qui. devo fare la stessa cosa inserendo l'ago nella delica del giro successivo dell'incassonatura quindi diciamo che il secondo giro a partire dal davanti il terzo giro a partire da dietro successivamente dopo quelle che abbiamo inserito noi quindi noi abbiamo inserito queste delica sul secondo giro noi ci spostiamo nel giro successivo inseriamo una delica sull'ago e vado ad inserire l'ago nella delica successiva in questo modo vediamo che la mia delica è sopraelevata e avrà questo aspetto se lo vediamo di qua o di qua proseguiamo così per tutto il resto del giro quindi inserisco sull'ago una delica e vado ad inserire l'ago nella delica successiva esattamente come ho fatto prima ci vediamo alla fine del giro ho terminato il mio secondo giro quindi vedete con l'ago sono uscita da questa delica di base e ho adesso due giri diciamo sopraelevati a questo punto devo ripetere l'operazione per un'ultima volta lo devo fare nel giro esattamente successivo a quello che abbiamo terminato adesso quindi il primo giro a partire dal davanti l'ultimo giro a partire dal di dietro della mia incassonatura quindi prendo l'ago e inserisco l'ago nella delica del primissimo giro in questo modo il filo mi esce da qui dal secondo e io vado ad inserirlo nel primo vado ad inserire una delica sul filo e vado ad inserire l'ago nella delica successiva da dove sta uscendo il mio filo in questo modo quindi la mia delica si dovrebbe esattamente posizionare qui sopra elevata anch'essa quindi me la ritrovo così dal laterale così dal davanti devo terminare tutto questo giro esattamente come ho fatto tutti gli altri ho finito anche il terzo giro quindi la lavorazione ci risulta così con tutte queste delica sopra elevate perché le ho fatte perché ci si risulterà più semplice a questo punto inserire tutte le daghe inserire le gocce le delica eccetera e sarà più semplice ripassare più e più volte perché comunque lo dovremmo fare inserisco quindi l'ago in una delle deliche dell'ultimo giro non è importante che voi nascondiate o non nascondiate il filo anche perché adesso inseriremo tanti di quelle di quei componenti che il filo verrà tranquillamente coperto allora a questo punto dobbiamo inserire sull'ultimo giro le daghe un pochino più grandi io ho preso delle daghe che sono 5x12 mi pare però se voi le avete ancora più grandi ancora meglio tipo 5x16 eccetera a questo punto io sto uscendo da questa da questa delica se vedete il filo che è arricciato è perché già avevo inserito le daghe però non avevo schiacciato per registrare quindi io esco da questa delica devo inserire sull'ago una daga penso si chiami daga in singolare comunque un petalo e vado ad inserire l'ago nella delica successiva questa qui sempre quella rialzata il giro rialzato stiamo parlando non vi preoccupate se le daghe non si manterranno in una posizione perfetta perché andranno un pochino perfatti loro è normale a noi ci servirà solamente per legarle all'incassonatura dopodiché dovremo ripassare il filo per poterle fermare bene bene quindi inserisco sempre la daghe sul filo e vado ad inserire l'ago nella delica successiva in questo modo piano piano le mie daghe le avrò tutte quante sistemate devo procedere così per tutta la fine del giro quindi ci vediamo alla fine di questo giro a questo punto ho terminato tutto il giro quindi le daghe si ritrovano tutte così tutte disordinate allora sto uscendo con il filo da questa delica un attimo che l'ho persa da questa delica questa qui devo reinserire l'ago in tutte le altre daghe una dietro l'altra senza tener conto delle delica di sotto quindi in questo modo inizio ad inserire le prime due e tiro bene bene il filo vado ad inserire l'ago nell'altra e tiro il filo ecco stiamo scendendo questa daga inserisco l'ago nell'altra e tiro il filo in modo da poterle stringere bene bene in modo che siano belle ferme vedete queste già si stanno allineando noi dovremo ripassare il filo più volte quindi lo facciamo per tutte le altre daghe inserisco l'ago nell'altra e tiro bene bene poi nell'altra ancora e tiro procedo così per tutta la fine del giro ok a questo punto ho finito il primo giro quindi vedete che le daghe si sono sistemate sono tutte belle ordinate però a questo punto si muovono ancora molto quindi dovrò prendere di nuovo il mio filo e ripassarlo in tutte le daghe per più e più volte io lo farò circa 7-8 volte voi dipende se vi trovate se le daghe stanno belle ferme terminate i giri altrimenti proseguite ancora di più dipende anche dal filo che utilizzate quindi ci vediamo quando avrò terminato tutti questi 7-8 giri ok ho inserito il filo più e più volte le mie daghe stanno un pochino più ferme a questo punto giro il lavoro sul davanti per una questione di comodità entrerò in una delle delica su cui abbiamo piazzato la nostra daga per poter fare il capietto lo faccio adesso perché poi inserirò altre daghe altre perline eccetera e poi avrò difficoltà a rientrare qua dentro quindi ho inserito il mio filo nella delica andiamo se vi faccio vedere ecco qui nella delica in questa qui su cui abbiamo inserito una delle daghe inserisco sul filo circa 7 7 delica a questo punto se il filo esce da questa parte io inserirò l'ago dalla parte opposta in questo modo in modo da formare il capietto così inserisco l'ago una seconda volta in tutte le perline e nella delica in modo da fissare il lavoro ok a questo punto ho fatto anche il mio capietto devo procedere con la decorazione quindi con il mio filo con il mio ago devo passare nelle delica centrali in quello che ho fatto realzate le delica centrali esattamente in queste prendo l'ago e faccio passare il filo in queste delica ok il filo uscirà da questa delica realzata a questo punto dobbiamo inserire le daghe più piccoline io utilizzo delle daghe 3x10 color Picasso sono queste qui le inserisco sull'ago una daga e vado ad inserire l'ago nella delica successiva da dove sta uscendo il filo così quindi la mia daga si posizionerà esattamente tra lo spazio che è stato creato dalle due delica proseguo così fino alla fine del giro quindi inserisco sull'ago un'altra daga e vado ad inserire l'ago nella delica successiva da dove sta uscendo il filo un'altra daga è stata posizionata proseguo per tutta la fine del giro allora a questo punto ho finito tutto il giro ho terminato di inserire le daghe più piccoline adesso devo rientrare in tutte le daghe per poterle bloccare però non mi basterà rientrare nelle daghe perché comunque ci sarà uno spazio tra queste che dovrò occupare in questo modo allora sto scendo da una delica e faccio rientrare il filo in una daga nella prima daga a questo punto prendo una delica 11.0 e vado ad inserire l'ago nell'altra daga quindi vado ad inserire tra una daga e l'altra una delica 11.0 e proseguo così per tutta la fine del giro inserisco sull'ago una delica e inserisco l'ago nella daga successiva in questo modo prendo una delica e inserisco l'ago nella daga successiva proseguo così fino alla fine del giro allora il mio giro è terminato quindi ho inserito tutte le delica tra una daga e l'altra e adesso stanno belle piatte e stanno belle ferme se volete potete anche fare un'altra ripassata di giro quindi passate in tutte le daga e in tutte le delica ora vi volevo spiegare perché ho fatto il cappietto prima di inserire queste perché poi sarebbe stato comunque difficile reinserire l'ago qua dentro non impossibile però sarebbe stato più difficile quindi ho semplificato mi sono semplificato un pochino la vita a questo punto devo fare la decorazione più interna allora voi potreste decidere di utilizzare le drops cioè le gocce però io non le avevo come al solito e quindi ho deciso di fare dei piccoli picò con delle rocaglie 11.0 le rocaglie che utilizzo sono queste comprate da Obi Perline TH90602 sono delle server lined e deciderò quindi di fare dei piccoli picò esco esco da questa delica e dovrò inserire l'ago per andare sul giro più diciamo esterno quindi inserisco l'ago nella delica del giro più esterno in questo modo a questo punto sto scendo da questo giro di delica non farò altro che inserire tre rocaglie vediamo tre rocaglie 11.0 e inserisco l'ago nella delica successiva da dove sta uscendo il filo ok il mio piccol è stato fatto a questo punto non proseguo ancora facendo un altro piccol perché altrimenti non mi piaceva il risultato inserirò una semplice delica 11.0 quindi metto l'11.0 sul filo e vado ad inserire il filo nella delica successiva da dove sta uscendo il filo adesso in questo modo inserisco altre tre rocaglie 11.0 sull'ago e vado a fare un altro piccol inserisco l'ago nella delica successiva in questo modo dopo il nostro piccol inserisco la delica 11.0 vado e inserisco l'ago nella delica successiva devo proseguire così fino a tutto il giro fino alla fine del giro quindi inserirò un piccol una delica e un piccol una delica ci vediamo alla fine del giro a questo punto la lavorazione è terminata abbiamo fatto tutti i nostri piccol non c'è bisogno di ripassare il filo si dovrebbe mantenere tranquillamente comunque se volete lo potete ripassare e poi passate il filo dalla parte retro per poterlo insomma chiudere il nostro giancetto è pronto per essere un bellissimo ciondolo un bellissimo pendente per metterci la catenina e quindi niente il tutorial è finito spero che vi sia stato utile ci vediamo al prossimo video un bacio a tutti ciao ciao